Si avvicinano le festività assessore ma anche il problema puntuale delle carovoli in Sicilia. Come la regione siciliana vuole rassicurare i siciliani? Già siamo a lavoro da qualche giorno, proprio qualche giorno fa il presidente Schifani insieme a tutta la coalizione e al governo ha annunciato un provvedimento per ampliare la scontistica a tutti i siciliani. Come ricordiamo dal 4 dicembre dell'anno scorso tutti i siciliani possono volare con uno sconto del 25% e alcuni del 50%. Il governo Schifani quest'anno per le festività natalizie vuole aumentare lo sconto fino ad arrivare al 50% per tutti i siciliani. Abbiamo questo strumento che ha superato tutti i livelli di controllo. Parliamo del Ministero delle Finanze, parliamo anche del Ministero dei Trasporti e anche la Commissione Europea con l'ufficio che si occupa dei trasporti, il Digimove, ha decretato che il nostro è un provvedimento inattaccabile. Già 500.000 siciliani hanno soffrito dello sconto. Riteniamo di andare avanti con questo provvedimento perché la mobilità dei siciliani è prioritario per questo governo regionale. Ma secondo lei molte compagnie low cost che approdano qui a Palermo investono soldi perché dopo un paio d'anni vanno via? Perché questo non lo sappiamo ma c'è un'inversione di tendenze in tal senso. Al di là delle compagnie low cost noi abbiamo dei dati statistici che sono quelli che vengono forniti dagli aeroporti e dall'ENAC e anche dall'assessorato regionale ai trasporti e stiamo verificando che c'è un incremento notevole sul traffico dei passeggeri da e per la Sicilia. Addirittura quest'anno è stato battuto il livello record dei 20 milioni dei passeggeri transitati. Si parla di oltre il 10% dei passeggeri che transitano dagli aeroporti siciliani, dai sei aeroporti. Abbiamo anche potuto riscontrare che un buon incremento è stato dato anche dalla misura contro il carovole che ha permesso a centinaia di migliaia siciliani di poter calmerare i prezzi.